Parte B di Start the Fire. 32 passi, sempre solo ad ore 12, la troviamo nella sequenza per 5 volte. A coppia avremo A, B, B, poi di nuovo A, B, B e l'ultima B invece singola, che è quella dopo il tag 2, verso la fine della musica. Riprendiamo l'ultima ottava dell'A e dopo continuiamo con la B. L'ultima ottava dell'A è tacco, punta, kick, kick, coaster step lento di gamba destra indietro, lo coaster step e stop. Da qui, prima ottava, faremo un jump, quindi faremo un salto, divaricando appena i piedi. Il peso però resta sulla gamba sinistra, perché la gamba destra farà un look indietro. E la riappoggio sempre con un salto. La sinistra farà anche l'a è il look indietro, ma subito dopo farà un kick in avanti, la sinistra. Quindi, dopo lo suono, apro il punto di destra, apro il punto di sinistra, kick. Da qui appoggio la gamba sinistra, vado in appoggio per il putero. Come contiamoci qua? Uno, due, tre, quattro, cinque. Sul servizio cambiamo l'appoggio per la gamba sinistra. Mancano due corteggi e finiamo la mia ottava. Questi due corteggi si realizzano in un rocking chair saltato di gamba destra. Ovvero, sulla prima parte del rocking chair, di questo. Quindi, attenzione a questo rocking chair, perché in genere in un'ottava lo troviamo quasi sempre nella stessa ottava. In genere mettiamo uno, due, tre, quattro. Qui invece lo troviamo il rock in avanti sulla prima ottava e il rock indietro sarà sulla seconda ottava. Allora, vi spiego. Apro di destra, apro di sinistra, kick, appoggio, rock, quindi do il peso sul destra in avanti, recupero il peso sulla sinistra, la destra si solleva piegandosi. Sono otto conteggi. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E ho iniziato il rocking chair per la gamba destra. Quindi abbiamo salto, hook, salto, hook, kick, appoggio, rock, kick. Devo continuare con il rocking chair all'indietro, perché ho fatto solo la prima parte, in avanti. Lo continuo all'indietro, quindi lo finisco. Vediamo se li passi ancora. Apro, hook, apro, hook, kick, appoggio, rock, rock e... Quindi ho un rocking chair all'indietro. Da qui, tralasciando un attimo i conteggi, ho effettuato il mio rocking chair in avanti, indietro. Ora mi dovrò girare a sinistra. Pompierò a mezzo il giro a sinistra. Quindi finirò sul muro alle ore 18. Facendo leva sulla gamba sinistra, andrò a fare, attenzione, un rock step saltato laterale con la gamba destra. In questo modo. Allora, mi giro completamente a sinistra, vado a fare un rock laterale sulla gamba destra e vado sempre in recupero quel peso sulla sinistra. E mi sono girata. Allora, verrà questo, il rock in chair, rock, rock, rock e... Lo mostro da questo lato, giusto per far vedere questo rock step laterale di gamba destra girandosi. Non perché la B ci sia anche da questa parte. Allora, rock in chair di gamba destra, avanti, indietro, giro, sinistra e... E recupero sempre il peso sulla sinistra. Allora, rivediamo su qua. Apro, up di destra, apro, up di sinistra, kick, appoggio, rock avanti, rock indietro, giro, sinistra, rock e... E non è finita la seconda ottava. Perché una volta fatto questo passaggio del rock laterale e recupero il peso sulla sinistra, farò semplicemente un rock back stomp col destro. Cioè, adesso faccio un rock step indietro, vado a recupero sulla gamba sinistra e farò un stomp col piede destro a fianco al sinistro e seguirà una pausa. Sarai con uno stomp up perché poi ricomincio quel piede destro. Ma è semplice, una pausa è uno stomp, più pausa. Rivediamo le prime due ottave. Salto, punto di destra, salto, punto di sinistra, kick, appoggio, rock avanti, rock indietro, giro, sinistra, rock e... Rock step, stomp, stomp di destra. Faccio vedere da qui, giusto per capire la parte dove giro, così mi vedete di spalle. Sette, otto, apro, kick, apro, kick, appoggio, rock avanti, rock indietro, sinistra, rock e... Rock, let's go! Allora, adesso contiamo le prime due ottave. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, pausa. Avrete visto che la seconda ottava inizia appunto dal rock indietro, dalla metà del rocking chair. Uno, due, tre, quattro, cinque, cinque kick, sei, sette, otto. Seconda ottava, uno, due, nella sinistra. Tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, pausa. Da qui, procediamo per la terza ottava. Mi muovo con la gamba destra, come ho già detto. Allora, farò un passo in avanti, in diagonale. La gamba sinistra farà un hook, quindi si piega. Ora, procedo in avanti facendo un passo in diagonale con la gamba sinistra. E la destra farà anche lei un hook, come ha fatto prima la sinistra. Ora, torno ad ore 12, mi giro di mezzo a destra, appoggiando la gamba destra, che adesso è piegata. La sinistra fa un hook, ora fa l'ultimo passo in avanti e chiudo la terza ottava con uno schiaffo di destro. Quindi questa sequenza è tutta passo hook, passo hook, più il giro e il termine dello schiaffo. Allora, dopo il rock back stomp, sono da ore 18, avanti in destra in diagonale. Uno, hook, tre, hook di destra, giro di mezzo a destra, appoggiù a destra, hook di sinistra, avanti sinistra, staff. Conto. Uno, due, tre, quattro, giro di mezzo a destra, cinque, sei, hook di sinistra, sette, appoggio a sinistra e otto in staff. E sono tornato a ore 12. Ancora. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, staff. Attacchiamo questo dall'inizio. Sette, otto, salto hook, salto hook, kick, appoggio rock avanti, rocchi dietro, legno a sinistra, rock e rock, back, staff. Avanti destro, hook, avanti sinistra, hook, giro a destra, appoggio il destro, hook, appoggio sinistra, staff. E ho finito fin qua. Allora, ancora. Conto. Sette, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Da qui, ultimo tavolo, farò due cross rock. Cioè, questi sono due rock step in diagonale di gamba destra. Rock step, rock step. Do il peso, lo recupero, il peso, lo recupero. Non è ruotrice. Non è questo. Sono due rock step in diagonale, due scutti. Rock step, rock step. E da qui chiudiamo l'ultima ottava della B e tutta la B con un rock back stonco di destro. come alla fine della seconda ottava. Farò un rock back al destro, vado un recupero sul sinistro e in fondo. Quindi l'ultima ottava diventa rock step, rock step, rock step, rock back stonco. Contando sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. E sempre pausa. Allora, finita la B. Rivediamo la punta. Sette, otto, alto, hook, alto, hook, kick, appoggio, rock avanti, rock nero, metà sinistra, rock e rock, let's stop. Avanti, hook, avanti, hook, giro destra, hook, appoggio, tap, rock step, rock step, rock step, rock step, stop. Contiamo. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, tre. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. e la troviamo doppia le prime 4 volte doppia quindi troveremo ABB ABB nella sequenza dopo il taglio 2 ce n'è solo una e poi si attacca l'ultima al finale allora, dobbiamo fare un po' di seguito 7, 8, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 8, 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e ora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dopo il rock and chair e a sinistra giro ok questa è la parte B e ora rivediamo un prossimo minuto per la parte grazie a tutti